ciao a tutti e bentornati sul canale della fata tutto fare nel video tutorial di oggi andremo a realizzare un progetto veramente molto molto particolare semplice ma di grande effetto sarà una maglia monospalla per questo progetto sono andata a scegliere questo filato bellissimo che il filo di scozia manda 5 in questa bellissima variante colore che è il colore 196 naturalmente poi nell'info box naturalmente sotto il video come sempre vi metto tutto l'occorrente le quantità e soprattutto i link diretti per trovare i prodotti che sto utilizzando per quanto riguarda l'uncinetto prenderete il numero 2 e quindi questo è quanto occorre per il nostro progetto il campioncino che state vedendo è quello che ho realizzato per poter sviluppare il mio campione adesso lo rifacciamo insieme perché io in base a questo campione sono andata ad avviare un totale di 97 maglie per il pannello che dovevo fare quindi un pannello diciamo abbastanza grande quindi ricomincio con un campione come questo quindi con 15 maglie per farvi vedere la lavorazione che vedrete è molto molto semplice ma anche di grande effetto il multiplo che abbiamo come punto di riferimento che vi scrivo anche qui in alto e un multiplo di 3 più 1 quindi vado ad avviare il nodo che ovviamente non conto e adesso avvio una due tre quattro cinque sei sette otto nove dieci undici dodici tredici quattordici e quindici in quanto un multiplo di 3 più 1 quindi sono 16 maglie adesso una volta realizzata la sedicesima maglia tengo il dito fermo sull'ultimo sull'ultima catenella in modo da non confondermi e aggiungo praticamente solo una catenella in più per poter realizzare la prima maglia alta entro nell'ultima eseguita quindi nella sedicesima faccio prima il punto basso e poi due catenelle sopra in questo modo vi sarà molto più facile avviare la prima maglia alta a questo punto dobbiamo tornare indietro eseguendo 16 maglie alte in totale per un totale di due righe vedete come ho fatto il mio campione quindi sono due righe di maglie alte in questa e poi nella successiva una volta realizzate le nostre 16 maglie alte andiamo ad eseguire tre catenelle 1 2 e 3 che vanno a sostituire la prima maglia alta giriamo il lavoro ricominciamo dalla seconda vedete qui ho già lavorato entro nella seconda e rifaccio tutta la riga di maglie alte quindi diciamo che in questo modo con queste due righe di punti alti andiamo a formare un po la molla il bordo inferiore della maglia successivamente inizieremo il nostro punto che come vedrete è un susseguirsi di maglie alte che però lavoreremo tutte dal dritto in questo modo avremo comunque una lavorazione chiusa e al tempo stesso un pochino più particolare per poter avere tutte le maglie alte dal dritto ricominciamo nel seguente modo allora avviamo una catenella e voltiamo il lavoro rientriamo nella prima maglia disponibile quindi esattamente qui dove generato la catenella stessa ed eseguo un punto basso faccio 2 catenelle conto una e due maglie e nella terza chiudo sempre col punto basso quindi facciamo una sorta di archetto di nuovo eseguo 2 catenelle conto 1 e 2 maglie di base nella terza chiudo col punto basso quindi 1 e 2 catenelle conto 1 e 2 punti di base nel terzo chiudo col punto basso vedete quindi sono solo 2 catenelle che mi permettono di saltare 2 maglie di base nel terzo punto eseguo il punto basso in questo modo arrivate a a fare tutta la riga in questa maniera attraverso gli archetti che abbiamo ottenuto possiamo lavorare la riga di ritorno di maglie alte avendole in questo modo sempre dal dritto per ricominciare quindi andiamo ad eseguire una maglia alta costituite dalle 3 catenelle consuete adesso come si procede nel modo più semplice possibile all'interno di questi archetti andiamo semplicemente a lavorare una sequenza di 3 maglie alte 1 2 e 3 in questo caso abbiamo quindi la maglia alta quindi le 3 catenelle che iniziano diciamo il giro e nell'archetto 3 maglie alte quindi in totale ne abbiamo quattro vado nell'archetto successivo lavoro di nuovo 3 maglie alte 1 2 e 3 di nuovo filo sull'uncinetto mi sposto nell'altro archetto e lavoro di nuovo le mie 3 maglie alte quindi il punto è veramente semplice fatte le 3 maglie alte vado nell'archetto successivo e nel lavoro altre 3 bisogna fare attenzione soltanto nell'ultimo archetto dove invece ne lavoriamo due dentro l'archetto vedete una e due mentre la terza la lavoriamo sul punto basso in modo da poter avere il bordo perfetto in questo modo abbiamo 3 3 3 3 e 4 vedete 3 più 1 che il nostro multiplo quindi rispettiamo il multiplo a questo punto una volta fatta la riga di maglie alte cosa succede si fa la catenella si volte il lavoro si rientra nella prima maglia si esegue un punto basso 2 catenelle di separazione dove si va a ripuntare l'uncinetto non bisogna neanche contare perché puntiamo l'uncinetto tra i gruppi di maglie alte e facciamo il nostro punto basso catenella catenella il punto basso vedete lo prendiamo in mezzo qui punto l'uncinetto tra le maglie alte quindi non contiamo se non è la prima riga e poi non contiamo più vedete catenella catenella il punto alto il punto basso scusatemi catenella catenella e qui si lavora al bordo e abbiamo fatto il giro di ritorno di nuovo adesso la maglia alta quindi si ricomincia sempre con la catenella di 3 maglie e poi andando ad eseguire in ogni archetto 3 maglie alte in questo modo vedrete che le maglie alte le avrete tutte dal dritto e la vostra lavorazione risulterà seppur chiusa ma con questa piccola lavorazione quadrettata che molto bella al tempo stesso insomma non è il solito punto alto in questo modo dobbiamo procedere come vi ho spesso spiegato relativamente al campione una volta che avrete scelto il vostro uncinetto rispetto al filato che avete scelto in questo caso con l'uncinetto numero 2 vado a usare questo bellissimo filo di scozia potete se volete anche avere una lavorazione più ampia e decidere di lavorare per esempio con il 2 e mezzo come preferite una volta che avrete contato le maglie noi ne abbiamo messe 15 più una dobbiamo contare il nostro campione nel mio caso il mio campione e di sei centimetri e mezzo quindi per sapere quante maglie avviare prendo la mia circonferenza cosa intendo per circonferenza di solito mi prendo la circonferenza del seno se siete bilanciate tra la parte alta e bassa del corpo se invece il vostro punto di forza non è il seno ma sono i fianchi allora prendete quella circonferenza l'importante che poi una volta indossata la maglia vi calzi bene la dividete per due perché i pannelli da fare sono due quindi per esempio io scelgo di lavorare su 44 centimetri che la mia circonferenza c'è 88 diviso 2 quindi cosa faccio calcolo 15 maglie le moltiplico per 44 centimetri che voglio fare e le divido per 6 centimetri e mezzo del campione quindi 44 per 16 diviso 6,5 e il numero che ottenete deve essere un numero multiplo di 3 quindi andate ad avviare per esempio e vi dovrebbe venire credo 101 adesso non ricordo il calcolo preciso dovete andare a calcolare 102 che è un multiplo di 3 più 1 quindi avviate 103 catenelle se non so la dovete fare più piccola quindi immaginiamo che la vostra circonferenza sia di 40 centimetri per esempio non 44 farete sempre 40 per 15 diviso diviso 6,5 vi dovrebbe venire all'incirca sui 97 insomma a diminuire o a crescere il procedimento è sempre lo stesso quindi il numero che vi viene fuori che sia sempre multiplo di 3 e il numero di catenelle da avviare per avere la misura più adatta alla vostra circonferenza procedendo con la mia lavorazione quindi sono andata ad eseguire questi 2-3 giri quelli che vorrete insomma di maglie alte e poi andate a cominciare la vostra lavorazione con gli archetti alternandoli poi con le maglie alte come vedete la lavorazione è leggermente quadrettata non viene fuori un granny sicuramente e quindi rimane anche abbastanza chiusa per così coprire anche l'esigenza di coloro che non amano per la maglieria dei punti molto aperti questo è un punto veramente facilissimo alla portata di tutti la catenella iniziale fatto il calcolo vi dirà quanto largo deve essere vostro pannello l'altezza la decidete voi diciamo che una maglietta più o meno si attesta tra i 45 e 50 centimetri ho fatto 45 e ho quindi creato 33 righe contando soltanto le maglie alte quindi le righe di punti alti ho contato a questo punto una volta che avrete raggiunto la lunghezza la larghezza più giusta per la vostra dimensione andiamo a fare una piccola suddivisione nella parte alta per poter creare questa sorta di monospalla che è semplicissimo come vedrete ma anche molto particolare per quanto riguarda la parte della scollatura adesso andiamo a mettere un marker a nove motivi quindi raggruppando le maglie di tre in tre come sono raggruppati vedete andate a contare 1 2 3 4 5 6 7 8 e 9 in tutto siamo a circa 10 centimetri dal dal bordo ok e adesso andiamo a lavorare semplicemente un paio di righe per creare una scollatura più profonda chi volesse una scollatura barca di questa suddivisione non ha bisogno io voglio creare una scollatura un po più profonda quindi vado a ripetere questo motivo per due righe nell'arco di questi 10 centimetri quindi avendo chiuso con i punti alti vado a ricominciare con gli archetti quindi faccio la catenella rientro nel primo punto con la maglia bassa faccio 2 catenelle e chiudo dopo la terza maglia di nuovo 2 catenelle e chiudo praticamente vedete sempre negli spazi delle maglie alte in questo modo vado a creare due righe facilissime appunto da fare che mi creano diciamo una scollatura un po più quadrata raggiunto il marker andiamo a ricominciare con le 3 catenelle voltiamo il lavoro ed eseguiamo i nostri gruppi di 3 maglie alte semplicemente andiamo a ridurre lo spazio di lavorazione ma il punto è lo stesso quindi facciamo questa riga di punti alti poi torno indietro con la riga di archetti faccio un altro di punti alti e ho concluso questa sorta di spallettina una volta che avrete lavorato queste due righe avete creato una maggiore scollatura naturalmente potrete alzarla ulteriormente se volete che lo scollo sia ancora più accentuato una volta creata questa scollatura da un lato dobbiamo provvedere anche dall'altro ma se qui abbiamo lavorato circa 10 centimetri quindi 9 motivi qui ne vado a lavorare soltanto due quindi tengo presente praticamente le ultime sei maglie quindi entro riprendo il mio filo e vado a lavorare il punto basso e vado a fare i miei due le catenelle e l'archetto perché è qui che mi trovo nella lavorazione quindi faccio le mie due catenelle chiudo col punto basso ricomincio il mio lavoro e faccio le mie maglie alte quindi entro nell'archetto e lavoro le mie maglie alte che sono tre qui nel primo archetto e naturalmente nell'altro archetto che anche l'ultimo come abbiamo fatto per ogni fine giro lavoriamo solo due maglie alte la terza la lavoriamo sul punto basso in modo che il bordo venga regolare ok quindi ricominciamo con la catenella voltiamo il lavoro punto basso 2 catenelle per fare il nostro archetto chiudiamo in mezzo ai gruppi di maglie 2 catenelle e chiudiamo di nuovo vedete in questo modo andiamo a ripetere il motivo su una fascia di soli due punti in questo modo andiamo ad allungare di almeno 20 centimetri questa striscia in modo da creare l'accetto che da ambo i lati ci consentirà poi di chiudere il nostro monospalla una volta che avrete realizzato i pannelli con le due spallettine vedete con questi due giri che vanno a creare semplicemente una una scollatura maggiore poi come vi dicevo potete fare anche delle righe in più se preferite che lo scollo sia ancora più ampio mentre dall'altro lato abbiamo i laccettini 20 centimetri a questo punto abbiamo praticamente concluso il nostro lavoro perché dobbiamo andare a fare esattamente tre cuciture la prima cucitura va fatta sulla spalla dove abbiamo lasciato apposta un pezzettino di filo quindi prenderemo un ago e andremo a cucire la spalla per fare delle cuciture che non siano visibili mettete dritto su dritto dentro quindi faccia a faccia e rovescio verso l'esterno in modo che poi possiamo rigirare la maglia quindi la prima cucitura è quella della spalla e le altre due cuciture sono i laterali naturalmente lasceremo 18 centimetri per creare lo scalfo e quindi cuciremo i restanti naturalmente in base a quanto avrete fatto lungo la vostra lunga la vostra maglia diciamo che 18 20 centimetri sono quelle che vanno lasciati tutto il resto va cucito sia da un lato che dall'altro questo è il progetto che siamo andati a realizzare oggi nel nostro video tutorial come vedete è una maglia in cotone veramente molto semplice con la particolarità di avere questo effetto monospalla cioè di essere comunque ben chiusa però di avere appunto una manichina da un lato e un nastro dall'altro che vi lascia una spalla leggermente più scoperta abbiamo realizzato due pannelli molto semplici con un punto alto lavorato in un modo leggermente diverso per avere non soltanto le maglie sul dritto ma per avere diciamo una maglia sì chiusa ma non troppo banale quindi un punto veramente semplice alla portata di tutti anche come progetto abbiamo realizzato diciamo due pannelli della stessa misura durante il video vi ho dato tutte le indicazioni partendo dal campione per ricavare diciamo la taglia che vi occorre io mi sono tenuta sui 45 centimetri quindi al primo fianco qualora la vogliate leggermente più lunga attestatevi intorno ai 50 centimetri ricorderete che poi da questa parte abbiamo aggiunto due righe da ambo i pannelli in modo avere una scollatura leggermente più ampia se volete che lo scollo sia ancora più protagonista fate almeno quattro righe da un lato quattro dall'altro in modo che vi scenda di almeno un altro paio di centimetri così come da questo lato con diciamo 20 centimetri avete due nastrini non molto lunghi riuscite a chiudere e tenere ben ferma la maglia ma se volete che anche questi nastri siano un pochino più protagonisti potete partire da 20 centimetri allungare fin quando diciamo non raggiungono la lunghezza che vi piace eventualmente potete decorare anche con delle perline con degli strass con qualcosa che rende questo progetto ancora più particolare ed originale per quanto riguarda il filato come vi ho detto a inizio tutorial ho utilizzato questa questo bellissimo filato amanda 5 e questo è quello che resta del terzo gomitolo per questa taglia che appunto una taglia s quindi se volete il progetto un po più lungo un po più morbido diciamo che 4 il numero di gomitoli per avere una taglia sm un po più comoda soprattutto se preferite il modello leggermente più lungo così come se volete ricavare una manica più accentuata potete ricominciare qui dallo scalfo e allungarla un po così come allargando la maglia se non la volete troppo aderente vedrete che allargando il pannello anche questa manichina scenderà un pochino di più il progetto è veramente molto semplice il filo di scozza è poi un filato particolarmente adatto per l'abbigliamento quindi anche abbastanza fresco e spero come sempre di avervi dato un buon suggerimento vi ricordo sempre che nell'info box sotto il video ci sono tutti i dettagli dei prodotti utilizzati i link diretti per poterli vedere come sempre vi aspetto sul mondo delle fate per condividere insieme la nostra passione vi ringrazio per avermi seguito e vi rimando al prossimo video tutorial